ben a tutti e ben ritrovati qua sul canale perché questo video bisognava un po un attimo fare un attimo weekly diciamo di mezzo agosto comunque di mezza estate chiamatelo come lo volete però per un attimo proprio per farci due chiacchiere un attimo insieme così da potervi comunque aggiornare un po tutti quindi non so neanche quanto durerà questo video potrà durare pochi minuti come potrà anche durare diversi minuti ma comunque ci tengo a comunque a farlo c'è il ventilatore acceso perché comunque fa caldo quindi sentirete anche il ventilatore di sottofondo che sta andando mi sono scritto due tre cose perché se no mi ricordo quello che devo dire e partiamo comunque da un grazie perché quest'estate vi siete iscritti in tanti e state guardando in tanti video e quindi vi ringrazio veramente tutti e poi un po da come state vedendo anche sul canale che comunque fino a maggio era praticamente maggio inizio giugno con tanto più gaming che altro ma comunque andrà diciamo metà giugno fino a anche questo momento non mi sta andando proprio non c'ho la voglia di mettermi lì ad accendere la playstation o anche l'xbox o la switch per fare qualche partita che sono su fortnite o su apex o su cod o su switch dei giochi comunque sono usciti anche pre switch si avete visto un video di mv3 qualcosa su crash team rumble però non è che era come prima che mi mettevo due o tre ore mi mettevo e ci giocavo quando quando sto registrando questo video si ho fatto due orette su assassin's creed 2 che l'ho ripreso un attimo che avevo voglia di rigiocarci e loro ci ho giocato ma un gioco che comunque dopo due orette ho staccato e via quindi non ho più quella passione di esce un nuovo titolo lo vado a prendere lo gioco perché come 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 all'inizio diciamo spero che con starfield ma madonna mi scordi scordi il nome con starfield che esce a settembre poi con il nuovo se si scritte spider man ad ottobre e con il nuovo cod a novembre mi ritorni con la voglia di riaccendere un po le console e passarci tante ore ma al momento quella quella voglia di starli a prendere in mano mano un joystick non ce l'ho ho portato anche un po di gta rp però anche lì dopo un po passavo con l'oretta e mezza due poi dopo di spegnevo non non ho più quella voglia quella non lo so neanche io quella dire capro devo andare fare come mi prendevano fino a inizio anno un anno fa due anni fa anche addirittura tre quattro anni fa i videogiochi non lo so perché ho che forse sto crescendo e le passioni cambiano eccetera eccetera quindi i giochi sono sempre stati un mio grande hobby da quando ero piccolino forse è finita diciamo chiamiamola qual era quell'era da videogiocatore quindi se non non c'è non è un titolo veramente gagliarda che merita di giocarci e sta a passarci degli ore forse non non ci sto neanche più quindi ci sto quelli giusto quella oretta oretta e mezza e basta è però negli ultimi nell'ultimo periodo da come anche potete aver visto sta prendendo piede la la diciamo il mio hobby che fino a qualche mese fa andava diciamo pari passo con i videogiochi che è il collezionismo che avete visto sia di fumetti che di funk o pop carte pokemon adesso sono riuscito a recuperare un po di quelle di one piece quindi ho preso sto cominciando a prendere anche quel quindi mi sto proprio più appassionando a quel mondo lì del collezionismo quindi ad ampliare quello che mi piace come avete visto comunque sul canale e facendo questo proprio questo passaggio sto notando che molte idee anche non per il video non mi stanno venendo perché comunque prima c'era un videogioco nuovo che usciva prende lo prendevo lo provavo che se mi garbava usciva la serie quindi per un po di giorni c'erano i video poi tra un videogioco un altro gli alternavo con i video di pokemon dei spacchettamenti vari collezionismo delle reaction delle partite eccetera eccetera e quindi riuscivo a gestirmi per far uscire un video al giorno o anche addirittura due video al giorno praticamente per tutto il mese quindi questo punto è stato anche un attimo uno stallo perché comunque avendo soltanto comunque il collezionismo e non lo nego che il conto il collezionismo comunque è dispendioso di comunque di soldi quindi ovviamente non navigano nell'ora e niente potrebbero far uscire pochi video durante il mese perché comunque esce qualcosa di pokemon devo comprare ma comunque per chi è nel mondo dei lavori comunque abbastanza grandi c'è lo sa che non ci sono soltanto quelle come spesa quindi potrebbero capire potrebbe capitare che usciranno che su due tre video a settimana o addirittura che ne so 6 7 video al mese quindi se continuerà così poi non lo so poi può anche essere che arriverà che penso a se si scrive e spider man li riprendere la voglia di rigiocare quindi potrò portare più video e più contenuti sono anche sul canale ovviamente anche quando ho visto direct lo chiamo dirai comunque quelle le 20 di poco non guardavo però mi mi diciamo diventa un attimo pesantino ok detto come volete quindi io quando faccio i video preferisco sempre portare se mi piace di farle su un determinato contenuto e su un determinato argomento e ovviamente voglio anche un po' un attimo avvisare chi guarda questi video perché comunque se ci sono iscritti per i videogiochi eccetera eccetera preferisco comunque avvisarli e spero che comunque per chi si è iscritto ai videogiochi non se ne vada perché comunque potrebbe capitare che riparto dai e è un obiettivo che voglio riuscire ad arrivare a fine dell'anno e riuscire a pigliare sta maledetta partner prego mente avete visto comunque sul mio canale non ci sono le pubblicità perché youtube ha diciamo una soglia vuoi cominciare a monetizzare devi arrivare a una certa soglia e vi chiedo perché non chiedo mai niente comunque dico iscrivervi lasciare un like un commentino sotto i video che vedete e se riuscite nei video se video come sono durano 5 minuti guardateli tutti e 5 minuti non che dopo che ne so due o tre minuti uscita perché così almeno mi aiutate un po' con il canale ma mi basta anche soltanto che se vedete questo video e non siete iscritti se vi piace il contenuto andate a vedere un po' nel nel canale altri video se vi piacciono i contenuti che porto iscrivetevi è un bel mi piace o non mi piace un commentino sono gratuiti io quindi è tutto gratis ok però se vi chiedo anche se non se mettete un non mi piace almeno commentate sotto il video e dimentetemi perché non vi è piaciuto quel tipo di video perché per come per quando così almeno da poter comunque migliorare in seguito volevo farlo corto questo video ma siamo arrivati anche sui dieci minuti anche qua non vuole andare oltre perché comunque è stata un po per tutti e niente a poi mi chiedo passate su instagram perché lì che vi aggiorno un po su tutte le cose quando escono i video come quando perché se ci sono aggiornamenti imminenti e lì che comunque avviso diciamo poi adesso sto pensando se aprire un canale telegram o comunque usare discord per per chi vuole venire a parlare un po tutti ma comunque c'è instagram e lì c'è la possibilità di fare una diciamo una community per chi vuole e niente grazie per la visione e ci diamo poi al prossimo appuntamento bella